Sono numerosi cittadini italiani bloccati all'estero per via delle disposizioni legate all'emergenza coronavirus e alla cancellazione di numerosi voli. Tantissime le richieste di rientro inviate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che per sbloccare la situazione ha emanato un decreto unitamente al Ministero della Salute che obbliga all'autoisolamento per i 14 giorni successivi al rientro di quanti tornano in Italia anche se non presentano sintomi legati al coronavirus. Il decreto in vigore fino al 25 marzo riguarda tutte le persone che rientrano con qualsiasi mezzo di trasporto. Inoltre ogni individuo dovrà firmare una dichiarazione nella quale attesti di far ritorno al proprio domicilio, abitazione o residenza per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità oppure per motivi di salute. Il decreto prevede anche l'obbligo di comunicare al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale il proprio ingresso in Italia per avviare la sorveglianza sanitaria. Non dovrà osservare l'autoisolamento, chi transita o sosta in Italia per motivi di lavoro, però è obbligato a uscire dal paese entro 72 ore dall'ingresso e deve compilare una dichiarazione con la quale si comunica di essere in Italia per comprovate esigenze lavorative. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, comunica il Ministero degli Esteri, sono stati organizzati più di 90 voli speciali che hanno coinvolto 14 nazioni e riportato in patria circa 8.000 connazionali.